All'inizio di settembre, Dill ci lasciò per tornarsene a Meridian. Lo accompagniamo all'autobus delle 5, e mi senti molto infelice senza di lui, finché non mi venne in mente che una settimana dopo avrei cominciato ad andare a scuola. Mai in vita mia ho atteso così ardentemente qualcosa. Di solito l'inverno passavo molte molte ore arrampicata sulla casa dell'albero a guardare il cortile della scuola, spiando sciami di bambini con un cannocchiale che mi aveva dato Gem, imparando i loro giochi, seguendo con gli occhi la giacchetta rossa di Gem tra onde gianti girotondi di bambini che giocavano mosca cieca, condividendo segretamente le loro sfortune e le loro piccole vittorie. Non vedevo l'ora di unirmi a loro. Gem accondiscese ad accompagnarmi a scuola il primo giorno. È un compito questo che generalmente si riservano i genitori, ma Atticus disse che Gem sarebbe stato contentissimo di mostrarmi la mia aula. Ho idea che in questa transazione una certa quantità di denario cambia un padrone, perché quella mattina, mentre trottavamo verso la scuola, nel girare l'angolo dopo la casa dei Redli, udì un tintinio insolito nelle tasche di Gem. Giunti al cortile della scuola, Gem mi spiegò dettagliatamente che durante le ore di scuola non dovevo seccarlo. Non dovevo pretendere che recitasse come un capitolo di Tarzan e gli uomini formica, non dovevo metterlo in imbarazzo con allusioni alla sua vita privata, né correre dietro al gabinetto o a merenda, dovevo starmene con i miei compagni in prima, e lui se ne sarebbe stato in quinta. In poche parole dovevo lasciarlo in pace. Ma allora non possiamo più giocare assieme? Faremo come facciamo sempre a casa, disse. Ma vedrai, a scuola è diverso. Era diverso, sì. Non era ancora finita la prima mattina di scuola che già Miss Caroline Fisher, la maestra, mi rimorchiava alla cattedra, e dopo avermi picchiato sul palmo della mano con una riga mi batteva in piedi nell'angolo fino a mezzogiorno. Benvenute e benvenuti. Io sono Andrea, del Circolo dei narratori di Bergamo, e quello che state ascoltando è il secondo capitolo di un romanzo che è un piccolo classico, Il buio oltre la siepe, di Harper Lee. Il sabato pomeriggio propongo letture ad alta voce per chi vuole ascoltare. Questo è il secondo episodio di una miniserie che sto dedicando al tema del inizio della scuola. Anche in questo caso non si tratta di un romanzo che parla di scuola. Il filone principale della trama si sviluppa in tutta altra direzione. Ma all'inizio del romanzo, qui siamo appunto nel capitolo 2, la piccola protagonista. Inizia, come abbiamo appena sentito annunciare, la propria carriera scolastica, e questo è il resoconto della sua prima mattinata, in prima elementare. Miss Caroline aveva appena 21 anni, i capelli di un bel castano chiaro, le guance rosee e lo smalto delle unghie di un rosso acceso. Portava scarpette con i tacchi alti e un abito a strisce bianche e rosse, pareva una caramella di menta piperita, e ne aveva anche il profumo. Stava a pensione da Miss Moody Atkinson, che abitava di fronte a noi una casa più in giù. Miss Moody le aveva dato la stanza davanti al piano di sopra, e quando ci aveva presentati a lei, Jem era rimasto con la testa nelle nuvole per parecchi giorni. Miss Caroline scrisse in stampatello il proprio nome sulla lavagna, e disse, questo, vedete, significa che io sono Miss Caroline Fisher, sono dell'Alabama del nord, contea di Winston. Per tutta la classe si udì un brusio preoccupato. Temevamo che Miss Caroline fosse stramba come quelli del suo paese. Quando l'Alabama si separò dall'Unione, 11 gennaio 1861, la contea di Winston si separò dall'Alabama, e nella contea di Malcom lo sapevano anche i bambini. Per gli abitanti dell'Alabama del sud, l'Alabama del nord, era un paese che si poteva definire così alcol, acciaierie, filande, repubblicani, professori, altra gente venuta dal nulla. Miss Caroline iniziò il primo giorno di scuola leggendoci una storia di gatti. I gatti facevano conversazione tra loro, portavano abitini civettuoli, e vivevano in una casa calda accanto alla stufa della cucina. Quando Miss Caroline arrivò al punto in cui la signora gatta telefonava al negozio per ordinare dei topi al cioccolato, l'intera classe si diminava sui banchi impaziente, come un cestino di fermi. Evidentemente Miss Caroline non capiva che quei bambinetti mezzo stracciati, vestiti di cotonina rossa e di telaiuta, che per lo più avevano trinciato cotone e dato da mangiare ai maiali fin dal giorno in cui erano stati capaci di camminare erano refrattari alla fantasia. Giunta alla fine della lettura, Miss Caroline disse, carina questa storia, vero? Poi andò alla lavagna, scrisse l'alfabeto in enormi lettere stampatelle, e si girò verso la classe chiedendo, c'è nessuno che sa che cosa siano? Lo sapevano tutti. La maggior parte della classe era ripetente. Forse scelse a me perché sapeva il mio nome. Mentre leggevo l'alfabeto le apparve tra le sopracciglia una linea sottile. E dopo di avermi fatto leggere ad alta voce quasi tutte le prime letture e le quotazioni dei titoli sul bollettino di mobile scopri finalmente che non ero un analfabeta e mi guardò con vero disgusto. Mi disse che pregassi mio padre di non insegnarmi più nulla perché il suo metodo avrebbe potuto compromettere i miei progressi nella lettura. Devo pregare mio padre di non insegnarmi più nulla, ripete in sorpresa. Ma non mi ha insegnato niente Miss Caroline. Atticus non ha tempo di insegnarmi soggiunsi vedendo che Miss Caroline sorrideva scuotendo la testa. È talmente stanco la sera che sta seduto nel soggiorno a leggere per conto suo. Se non ti ha insegnato niente chi è che ti ha insegnato a leggere a chiese e bonaria Miss Caroline? Qualcuno deve pure avertelo insegnato. Non sarei mica nata leggendo il bollettino di mobile. Gem dice di sì. Ha letto un libro dove era scritto che io ero un fringuello marino invece di un cartellino. Gem dice che il mio vero nome è Gianluis Bullfinch, che sono stata sostituita in culla e che in realtà sono una... Evidentemente Miss Caroline pensò che mentissi. Non ci lasciamo trasportare dall'immaginazione carina, disse. Oggi pregherai tuo padre di non insegnarti più niente. È meglio che tu incominci da capo a mente fresca. Gli dirai che d'ora in avanti ci penserò io e che cercherò di rimediare al danno che ha fatto. Al danno che ha fatto? Tuo padre non sa come si insegna ai bambini e adesso si insegna. Mormorai una scusa e mi ritirai a meditare sui miei delitti. Non mi ero mai messa di proposito a imparare a leggere. Ma mi ero in un certo senso pasciuta del fango dei giornali quotidiani. Nelle lunghe ore passate in chiesa è stato forse allora che ho imparato a leggere. Nel mio ricordo non esisteva un'epoca in cui non ero capace di leggere gli inghi. Ora che ero costretto a pensarci mi pareva che la lettura fosse una cosa venutami naturalmente, come l'abbottonarmi la tuta da ginnastica senza guardare o fare il doppio nodo delle scarpe districando due lacci grovigliati. Non ricordavo più il momento in cui le righe che il dito di Attico si indicava muovendosi sulla pagina. Si erano separate in tante parole. Mi ricordavo di aver fissato quelle righe ogni sera della mia vita ascoltando le notizie di cronaca, il pastone parlamentare, i diari di Lorenzo Dao, tutto quel che leggeva Atticus la sera quando mi arrampicavo sulla sua ginocchia. Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere. Non seppi di amare la lettura. Si ama forse il proprio respiro. Sapevo che avevo fatto un po' inquietare Miss Caroline e quindi me ne stiti tranquilla, cercando di non farmi più notare, guardando fuori dalla finestra fino all'ora in cui ci diedero il permesso di andare al gabinetto. In cortile Gem mi isolò dalla covata di quelli della prima e mi chiese come me la cavassi. Gli raccontai tutto. Se non dovessi per forse restare qui me ne andrei subito. Gem, quell'accidente di signorina, dice che Atticus mi ha insegnato a leggere, che la devo smettere perché... Non te la prendere, Scout, mi consolò Gem. La nostra maestra dice che Miss Caroline sta sperimentando un nuovo metodo di insegnamento. Lo ha imparato all'università e tra poco lo metteranno in tutte le classi. Con questo sistema non si deve più studiare sui libri. È come se per imparare qualcosa sulle mucche ti facessero mungere una mucca, capito? Sì, Gem, ma io non voglio studiare le mucche. Io... Ma sì, invece. Bisogna pure intendersi di mucche. Qui da noi sono molto importanti. Non potei trattenermi dal chiedere a Gem se era ammattito. Ma no, sto cercando di spiegarti il nuovo metodo di insegnamento elementare, zuccona, e il sistema decimale di Dewey. E qui unica volta o corretto rispetto al testo. Nel libro che io c'è scritto sto cercando un nuovo metodo, ma non vuol dire niente, sto cercando il nuovo metodo. È evidentemente saltato un pezzetto di frase in fase di stampa. Sto cercando di spiegarti il nuovo metodo. Il sistema decimale di Dewey mi fa impazzire. È esistito davvero un pedagogista, John Dewey, ed è vero che è stato il fondatore di un metodo di insegnamento basato sull'esperienza e sulla relazione attiva con l'ambiente, ambiente naturale, ambiente sociale, quindi il lavoro, eccetera. Gem, il fratello grande, quello sveglio, ha capito così bene che confonde il sistema di questo pensatore col sistema metrico decimale che evidentemente stava studiando nel frattempo. E quello che risulta dalla confusione è un nome che a sua volta potrebbe aver sentito, perché esiste il sistema decimale di Dewey. Solo che è un altro Dewey e non c'entra niente con la scuola. E il sistema che si usa per classificare i libri per argomento si usa, per esempio, nelle biblioteche. Dal momento che ci siamo fermati, forse dovrei spiegare meglio la battuta degli uccelli di qualche minuto fa. In realtà si sarebbe capito benissimo facilmente se vi avessi detto prima che il cognome della protagonista è Finch, che in inglese è il nome di un uccello. La traduttrice italiana lo ha reso con cardellino. E il fratello dice che lei è un'intrusa nella famiglia e che il suo cognome è Bullfinch, che è anch'essa una specie di uccello, però crea anche il gioco di parole con Bullhead, che vuol dire zuccona, che è un epiteto con cui lui la chiama. Poi il problema invece è capire in che senso questo fatto degli uccelli spieghi la sua attitudine alla lettura. Probabilmente l'insinuazione di Jem fa riferimento alla Bullfinch's Mythology, che è una famosa raccolta di racconti mitologici, all'epoca famosa, diciamo, curata da questo Thomas Bullfinch, e quindi l'allusione che tutti i lettori di quell'epoca coglievano immediatamente è che è come se lei fosse nata in un libro, ok? Il fratello intende dire che lei è una testona, ma che è nata in un libro. E lei... ci crede, prende questa storia alla lettera. Non avevo mai messo in dubbio le affermazioni di Jem, e non vidi perché cominciare a farlo ora. Il sistema decimale di Dewey, applicato da Miss Caroline, consisteva in parte nell'agitarci davanti agli occhi cartellini che portavano scritti in stampatello articoli, pronomi e nomi di cose ed animali. Non avevamo l'impressione che la maestra si aspettasse dei commenti da noi. e tutta la classe ricevette quelle rivelazioni impressionistiche in silenzio. Mi annoiavo, e cominciai a scrivere una lettera a Dill. Miss Caroline mi colse sul fatto e mi disse di pregare mio padre di non insegnarmi più né a leggere né a scrivere. E poi, aggiunse, in prima non si scrive in corsivo, ma in stampatello. Soltanto in terza imparerete a scrivere in corsivo. La colpa era di Calpurnia. Forse lo aveva fatto perché altrimenti nei giorni di pioggia l'avrei fatta diventare matta. Comunque, aveva trovato questo sistema per tenermi occupata. Scarabucchiava l'alfabeto con mano decisa in cima a un foglio di blocco e poi ci scriveva sotto un versetto della Bibbia. Se riproducevo bene i suoi geroglifici, mi compensava con una fetta di pane, burro e zucchero. I metodi di Calpurnia non prevedevano né indulgenza né sentimentalismi. Era raro che io la contentassi ed era raro che lei mi ricompensasse. Tutti quelli che vanno a mangiare a casa alzino la mano, disse Miss Caroline, interrompendo il mio nuovo mugugno contro Calpurnia. I bimbi che abitavano in città alzarono la mano ed ella ci osservò una per uno. Quelli che hanno il cestino lo mettono sul banco, d'incanto apparvero barattoli di melassa, e sul soffitto danzarono i riflessi metallici. Miss Caroline andò su e giù, ficando il naso e dito nei panieri della colazione, annuendo col capo se il contenuto la soddisfaceva, aggrottando la fronte in caso contrario. Si fermò al banco di Walter Cunningham e il tuo chiese. Alla scolaresca bastava guardare in faccia Walter Cunningham per capire che aveva i vermi, e i suoi piedi nudi ci dicevano come li avesse presi. I vermi nemmatodi si prendono girando scalzi per le aie e intorno ai porcili. Se Walter avesse posseduto un paio di scarpe, le avrebbe certamente messe il primo giorno di scuola, e poi le avrebbe riposte fino a inverno, però aveva la camicia pulita e calzoni rammendati con cura. «Hai dimenticato il cestino stamane?» chiese Miss Caroline. Walter guardava dritto davanti a sé. Vedi un muscolo guizzare nella sua mascella magra. «L'hai dimenticato?» chiese Miss Caroline. La mascella di Walter si contraste di nuovo. «Sì, signora, porpottò, infine». Miss Caroline andò alla cattedra e aprì la borsetta. «Eccoti un quarto di dollaro», disse a Walter. «Oggi puoi andare a mangiare in centro. I soldi me li restituirai domani». Walter scosse la testa. «No, signora, grazie», disse piano strascicando le parole. «La voce di Miss Caroline tradì l'impazienza. Su, Walter, prendilo!» Walter scosse la testa di nuovo. Quando Walter scosse la testa per la terza volta, qualcuno mi sbigliò. «Tigli ero tu, scout!» Mi voltai. E vidi la maggior parte dei ragazzini che abitavano in città e l'intera delegazione di quelli che venivano con l'autobus che mi fissavano. Miss Caroline e io avevamo già conferito due volte quella mattina e tutti mi guardavano nell'ingenua convinzione che la dimestichezza generi la comprensione. mi alzai per il bene di Walter. «Miss Caroline! Che cosa c'è, Jane Lewis?» «Miss Caroline, lui è un Cunningham!» E sedetti di nuovo. «E con questo, Jane Lewis?» Mi pareva di essere stata abbastanza chiara. Per noi la cosa era lampante. Anche se Walter Cunningham se ne stava seduto lì dicendo una filza di bugie, sapevamo che non aveva affatto dimenticato a casa la colazione. Non ce l'aveva per niente. Non l'aveva oggi, né l'avrebbe avuta domani o il giorno dopo. Probabilmente non aveva visto un mezzo dollaro nell'intera sua vita. Provai di nuovo. «Walter è un Cunningham, Miss Caroline!» «Non ti capisco, Jane Lewis!» «Non fa niente, signora, vedrà che finirà per conoscere tutta la gente della contea un po' alla volta. I Cunningham non accettano mai una cosa se non la possono pagare. Non accettano neanche i pacchi dono a Natale e i buoni alimentari. Non prendono mai niente da nessuno. Vanno avanti con quello che hanno. «Non hanno molto, ma vanno avanti con quello!» Questa conoscenza approfondita della tribù dei Cunningham, o almeno di uno dei suoi rami, me l'ero fatta l'inverno prima. Il padre di Walter era cliente di Atticus. Qui taglio un pezzettino, abbiate pazienza, qualche pagina di tutto il lungo episodio tra il padre di Walter Cunningham e il padre della protagonista. Se si fosse preoccupato di capire da che parte tirava il vento, il signor Cunningham avrebbe potuto iscriversi nelle liste dei disoccupati e farsi dare un sussidio o un lavoro. Ma la terra, se l'avesse abbandonata, sarebbe andata in malora, ed egli preferiva crepar di fame, ma conservar la terra e votare come gli pareva. Il signor Cunningham, diceva Atticus, veniva da una razza di testardi. Se avessi potuto chiarire quelle cose a Miss Caroline, avrei risparmiato a me un castigo e a lei una mortificazione, ma non ero assolutamente in grado di dare agli altri spiegazioni come quelle che dava Atticus a me. E quindi dissi — Lei lo ha fatto vergognare davanti a tutti, Miss Caroline. A casa Walter non ha un ventino da restituirle, e lei della legna da ardere non saprebbe che fassene. Miss Caroline rimase impietrita. Poi mi afferrò per il colletto trascinandomi fino alla cattedra. — Jane Lewis, ne ho avuto proprio abbastanza di te questa mattina, disse. — Ti sei messa sulla strada sbagliata fin dal principio, carina. Apri la mano. Credevo che ci avrebbe sputtato sopra, perché a Meicomb, quando si tendeva la mano, palma in su, lo si faceva in attesa di quel rito. Era un metodo antico e rispettato di sigillare i contratti verbali. Mi chiedevo, stupita, quale contratto avessimo concluso. Mi girai verso la classe, quasi per avere una risposta, ma la classe mi ricambiò l'occhiata perplessa. Miss Caroline prese il righello, mi assegnò una dozzina di colpetti, e poi mi disse di andare a mettermi nell'angolo. Quando finalmente la scolaresca si rese conto che Miss Caroline mi aveva battuta, scoppiò un uragano di risate. Miss Caroline minacciò l'intera classe di farle subire il mio stesso trattamento, e la scolaresca esplose di nuovo, e ritornò calma soltanto quando si annunciò di lontano l'arrivo di Miss Blount. Miss Blount, una Meicombiana tuttora non iniziata ai misteri del sistema decimale, apparve sulla porta, e dichiarò con le mani sui fianchi, «Se sento volare una mosca in quest'aula, vi darò fuoco con tutti voi dentro. Miss Caroline, la sesta non può concentrarsi sulle piramidi con tutto questo fracassato!» La mia permanenza nell'angolo fu di breve durata. Salvata dal campanello, Miss Caroline guardò la classe uscire in fila per la colazione. «Io che ero l'ultima a uscire, la vidi crollare sulla sedia e nascondermi la testa tra le braccia. Se come si fosse comportata un po' più gentilmente, mi avrebbe fatto pena. Non era mica brutta». Ecco, allora, forse noi insegnanti dovremmo ricordarci questo. Il problema non è Dewey. Io ho trovato un mare di critici letterari e di studiosi di pedagogia e di scienze dell'educazione che si interrogano su perché e in nome di cosa questo romanzo prende posizione così fortemente contro Dewey, perché lo mette alla berlina. Ma, dal mio punto di vista, anzitutto non è affatto scontato che Miss Fisher stia applicando davvero quel metodo. È quello che ha sentito dire Jem, ma abbiamo visto quale percezione Jem abbia dei termini della questione. Ma poi, appunto, il problema non è Dewey prendere in giro le teorie di Dewey per appoggiare quelle di un altro sistema o di un altro metodo. Il problema è l'insegnante che crede di avere la formula magica, che cerca di applicare un metodo teorico senza saperlo calare nel contesto. Non è colpa sua, certamente. È nuova della città, non conosce il contesto. Però è lei che si è presentata con divieti e punizioni, non certo i bambini. È lei che non si è accorta che c'è stata la crisi del 1929 e il paese è pieno di poveri. Dove è stata lei per tutti questi anni? Poi, tra l'altro, io non sono un esperto, ma credo davvero che Dewey avrebbe riso in faccia a un insegnante che pretendesse di vietare di leggere a un'alunna e, peggio che mai, a una che pretendesse il rispetto a forza di bacchettate sulle dita. Possiamo capire perché la bambina la disprezza. Un fatto curioso è che io ho letto questo romanzo alle scuole medie, per scuola, lettura scolastica, e nel romanzo che abbiamo letto insieme, in classe, tutto questo episodio che abbiamo raccontato noi oggi non c'era. Era stato semplicemente tagliato. Chissà quale parte del messaggio i compilatori dell'edizione scolastica non volevano che arrivasse. Bene, io ho finito, vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo, Harper Lee, Il buio oltre la siepe. Si trova in edizione Feltrinelli, ce ne sono centomila ristampe, purché vi accertiate che quella che trovate sia un'edizione integrale, non tagliata. A presto.